Portoreggio a canestro come Manu Ginopili, come Ginopili Si è concluso il campionato del basketball a Mezzia, io do il ben trovato all'esterno, è il giallo-blu, il migliore marcatore del campionato, Alessandro Sacchellariu, ben trovato, come sta innanzitutto? Eh, tutto bene, vabbè, un po' dispiaciuto per essere uscito, che siamo usciti subito ai play-off, però ovviamente ci siamo subito rimessi a lavorare, quindi cerchiamo di non pensarci. Io ho parlato col tuo coach, ho detto che faccio, sento Alessandro, dov'è? Ad Atene, a Sparta, dov'è? Ma no, no, è alla Mezzia, non si muove dalla Mezzia, sei ancora lì, quindi? Sì, sì, sono ancora qui, che vabbè, per ora voglio rimanere ancora in Italia, perché comunque, vabbè, ho anche parenti a Roma, così, eccetera, quindi poi, come ho detto anche prima, abbiamo iniziato a fare qualche allenamento anche con il coach e quindi per ora rimango qui, poi si vedrà. Fai attenzione agli individuali di coach Barilla perché fece esplodere Ashley Hamilton che al momento gioca in Canada, dicono che sia molto bravo con gli individuali, a parte questo, che stagione è stata? Vabbè, direi una molto bella stagione, una stagione con tante sorprese, io personalmente era la mia prima esperienza fuori, quindi sono stato molto contento di essere arrivato in una squadra dove mi ha accolto molto bene, i ragazzi, il clima, il coach, la società in generale, quindi di quello sono molto grato. E poi, vabbè, anche i risultati, voglio dire, hanno mostrato che l'impegno c'era sempre, la voglia di vincere c'era sempre, poi sicuramente ci è mancata magari la lucidità in qualche partita, in generale sto parlando, e poi, vabbè, ha anche un po' deciso le vittorie e le sconfitte, un po' anche il Covid, ma non per la nostra squadra, parlo in generale, nel campionato. Comunque penso che in generale è stata una stagione veramente competitiva, cioè le prime otto squadre, penso che ci siamo, abbiamo vinto, abbiamo perso, cioè potevamo vincere con la prima come potevamo perdere con l'ottava, quindi era molto equilibrato il campionato, ed è stato anche quello che secondo me è stato molto interessante, cioè ci ha fatto sempre, ha fatto sempre sì che spingessimo e volessimo avere dei risultati più grandi. Il bello è stato il vostro non volere mollare, anche di fronte alle palesi difficoltà, molto spesso, anche dopo sconfitte cocenti, e ci sarà sempre una bella reazione. Il coach Parrillo, allenatore del Benerento, è stato anche abbastanza chiaro, ha detto che non abbiamo abbattuto un avversario qualsiasi, ricordiamoci che la Mezza probabilmente, come tu hai ben detto, ha subito la variabile Covid quando non doveva arrivare, anche perché poteva arrivare prima, tranquillamente. Mi sembra che ci fu il tuo caso e quello di Stefano Spasolievic, contemporaneamente, che insomma è stato un po' il bivio in negativo. Va dato atto però a Benevento, che ha giocato una grandissima serie play-off, vuole averle provate tutte, specialmente in gara 1, con le tue triple, però realmente hanno giocato la partita perfetta loro. Sì, sì, infatti io do i miei complimenti in generale a tutta la squadra, perché veramente è venuta sia la Mezzia, che poi quando siamo andati noi a Benevento, con una voglia di vincere molto grande. Si è sentita, secondo me, l'esperienza dei play-off, che noi non avevamo. E poi io penso che, vabbè, sicuramente nella prima partita abbiamo lottato fino all'ultimo, abbiamo cercato di rimontarla, di vincere, nonostante avessero delle alte percentuali da tre, anche loro. Ma, vabbè, alla fine hanno avuto la meglio loro. In gara 2, sinceramente, sono entrati molto più decisi di noi. Secondo me, noi siamo entrati un po' frettolosi, come se la partita finisse dopo dieci minuti. Invece hanno dimostrato di essere una squadra veramente forte e che è riuscita a vincere. Io credo che la vittoria passi dal 18 su 25 di Benevento, perché tirando così batti chiunque. A tal proposito ti chiedo, Sala con Silina contro Benevento e Angri contro Caserta, chi arriva fino in fondo, secondo te? Per te che le hai battute tutte e le hai affrontate tutte? Sì. Allora, secondo me, fino in fondo, io credo in Caserta. Ho questo pensiero, perché penso che, nonostante le sue sconfitte e magari i suoi alti e bassi, è una squadra che però ha sempre dimostrato di essere lì e di poter competere con tutte le squadre. cioè, in generale, il loro lavoro è sempre stato molto continuo. Questo, secondo me, questo è che li farà andare avanti. Poi, ovviamente, può succedere di tutto. Questa è la mia... Il mio recasento dovrà ribaltare la differenza del campo contro Angri, eventualmente in finale, qualora arrivasse in finale, giocare sempre in trasferta. Bisogna capire quanto vale questo fattore campo realmente, viste anche le altre partite. Per esempio, la Mezza, che ha perso con Benevento, perdendolo. O, per esempio, in B, che sta saltando il fattore campo spesso e volentieri. Anche tra formazioni seconda contro settima. Non è ovviamente questo il caso. Te lo devo chiedere, anche se siamo soltanto neanche a giugno, ma progetti per il futuro, dopo questa tua molto significativa stagione in Italia? Vabbè, sinceramente non ho ancora nessun progetto, non so sinceramente cosa farò, dove starò o dove vado a finire, quindi non ho proprio idea. Non so cosa rispondere. Per ora ti alleni con Barilla, che è la cosa certa. Per ora, sì, mi alleno col coach Barilla, che sicuramente ha dato la disponibilità e sono molto contento. Ma, sì, ovviamente, si vedrà quali saranno le proposte qual è la differenza tra gli allenatori che hai avuto in Grecia e il tuo primo allenatore italiano, insomma. Sì. Allora, personalmente la differenza più grande, che proprio la voglio dire subito, è l'atteggiamento. Cioè, nei miei confronti, ma come in molti ragazzi giovani, l'atteggiamento in Grecia è sempre molto riduttivo, come se non potessimo, cioè, i giovani, dico, non possono giocare magari in livelli tipo serie B, serie C, eccetera. Invece qua, io ho visto dal coach che ha avuto un atteggiamento subito di cercare di spronare a migliorare, con ovviamente il duro lavoro, e oltre a questo a dare anche fiducia ai propri giocatori. E poi, sinceramente, penso, cioè, ho anche un buonissimo rapporto al di fuori del campo, con Barilla, che non ho mai avuto con altri allenatori in Grecia. Sì, io credo che, insomma, sia sotto gli occhi di tutti il miglioramento di tantissimi di voi, sia dal punto di vista individuale, dal punto di vista del collettivo, quindi, per chi, ho letto qualche commento, per chi ha ridotto la stagione della Mezza solamente all'ultima partita contro Benevento, guardando il risultato finale, signori, io vi posso dire che vi sbagliate, perché, per chi l'ha visto tutto l'anno, hanno realmente compiuto un vero e proprio miracolo sportivo. vista da fuori, io non avrei dato mezzo centesimo all'arrivo lì su del basketball la Mezza, voi ci avete sempre creduto e su questo vi va dato atto, ovviamente. Alessandro, grazie mille, buoni allenamenti, quindi, con Coach Barilla, noi ci ritroveremo sicuramente presto e in bocca al lupo per il tuo cammino. Grazie, grazie mille, buona continuazione. alla prossima. Ciao. Ciao.